7 miliardi di euro per appalti pubblici fanno gola agli interessi criminali, se non addirittura a Cosa Nostra che cercherà di infiltrarsi nei servizi collaterali, i cosiddetti subappalti. E per questo occorre alzare l'asticella dei controlli. L'obiettivo è quello evidentemente di stroncare ogni tentativo attraverso una cabina di regia che è anche istituita in prefettura per un monitoraggio costante dei fondi del PNR e con una stretta collaborazione con i comuni e con gli organismi regionali e statali. Il Governo nazionale ha lanciato un progetto di formazione e coordinamento per seguire passo passo i cantieri. Denominato Masip è finanziato nell'ambito del Programma Operativo Nazionale di Legalità IPON e la realizzazione è delegata al Comitato di Coordinamento per l'alta sorveglianza delle infrastrutture e degli insediamenti prioritari. guidata dal prefetto Michele Di Bari. Noi partiamo da un'idea ben precisa e cioè che il cantiere deve essere presidiato sin dall'origine, c'è il settimanale di cantiere, c'è il monitoraggio finanziario, c'è la informazione antimafia, c'è strumenti utili che sono dentro un'unica filiera e tale da evitare che possano esserci tentativi di infiltrazione mafiosa.